Se hai scontrato un problema riguardo su Windows Update, tipo che non riesci a scaricare e installare così questi ultimi aggiornamenti che hanno appena rilasciato, proprio oggi ho installato l'aggiornamento, quindi se andiamo su Windows Update, verifica disponibilità, aggiornamenti, cronologia degli aggiornamenti, come puoi vedere, installazione è riuscita il 10 di ottobre, quindi aggiornamento cumulativo, il KB5044284. Se vuoi scaricarlo da capo perché non è andato con successo, è possibile andare su Esplora Risorse, vai su questo PC, vai su disco locale C, vai su Windows, scendi fino a giù fino a trovare così la cartella del software distribution ed eccolo qua, download. Qua dentro vanno scaricati così gli aggiornamenti, quindi tutti gli aggiornamenti che scarichi vanno a finire anche qua sopra, quindi ti consiglio di eliminare tutti questi file e riprovare così a riscaricarli facendo verifica, disponibilità, aggiornamenti. Se l'errore persiste è possibile reinstallare di nuovo Windows 11, ma in questo caso possiamo mantenere i file, quindi crea il supporto di installazione per Windows 11 ed eccolo qua. Scarica e installa così Windows 11 mantenendo i file. Ho fatto una guida se hai bisogno, quindi c'è una guida sul canale che ti ho lasciato anche nei commenti in primo piano ed eccola qua. Scaricare la versione del 24 H2 di Windows 11. Il tutorial è completo, tutto. Ho fatto vedere come scaricare e installare l'intero Windows 11 con la versione 24 H2. Mi ha installato anche gli ultimi aggiornamenti e poi dopo, quando si è riavviato più volte il computer, sono andato su Windows Update ed eccolo qua. Aggiornamento accumulativo, download in corso della versione 24 H2. Quindi se tu reinstalli Windows 11 mantenendo i file ci vorranno un'ora e mezza, due ore, dipende anche da quante cose hai sul disco. Quindi se è veloce il disco ci metterà pochissimo. Scarica e installa Windows 11 versione 24 H2 con gli ultimi aggiornamenti rilasciati oggi il 10 di ottobre. Ed eccolo qua, versione 24 H2. Se l'errore persiste, possiamo andare direttamente su servizi. Scendi fino a giù fino a trovare Windows Update. Tipo di avvio. Facciamo tipo interrompi. Quindi se questo servizio è arrestato, tu devi avviarlo. Il tipo di avvio metti manuale. E fai applica. Arrestalo e avvialo più volte finché non si ripristina così il problema su Windows Update. E riprovare a verificare disponibilità, aggiornamenti. Se non dovesse funzionare, possiamo semplicemente andare su impostazioni, risoluzioni, problemi. Altri strumenti di risoluzione dei problemi. E qui puoi eseguire una scansione, quindi una diagnostica su Windows Update. Quindi puoi anche contattare un agente e farti anche aiutare per vedere qual è il problema sul tuo computer. In descrizione ti ho lasciato così un comando per arrestare il servizio di Windows Update e avviarlo. Facendo anche un ripristino. Quindi andiamo sul nostro PowerShell, Windows PowerShell. Esegui come amministratore. Quando ho sempre questi problemi su Windows Update, di solito uso sempre questi metodi qua. E subito ritorna a funzionare. Ed eccolo qua. L'errore dell'aggiornamento è il 0x800f081f. Quindi vado a inserire così questo comando. Fai copia e lo inserisci qua. E faccio invio. E aspettiamo. Una volta fatto così il ripristino, quindi il ripristino dell'operazione, possiamo anche chiudere. E fare exit. Ovviamente io vi consiglio più di reinstallare da capo Windows 11 mantenendo tutti i vostri file e reinstallando proprio gli ultimi aggiornamenti rilasciati proprio oggi. Quindi grazie a tutti per questa visione. Noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao. Noi ragazzi ci vediamo. Noi ragazzi ci vediamo. Ciao.